La tormentata vita dei fratelli De Filippo Titina, Edoardo, Peppino Sono i tre fratelli De Filippo che hanno scritto fondamentali pagine del teatro e del cinema italiano nel corso del Novecento. Tantissime infatti le opere passate alla storia, ispiratrici di molti attori e registi futuri. Figli del grande Edoardo Scarpetta, nome d'arte di Odoardo Lucio Fausto Vincenzo Scarpetta, Napoli, 12 marzo 1853 e Napoli, 29 novembre 1925, attore e commediografo italiano. Il quale però li ebbe da un rapporto extraconiugale con la sarta teatrale Luisa De Filippo, nipote di sua moglie Rosa. Pur non facendogli mancare una casa dignitosa, l'istruzione e la passione per il teatro, Scarpetta li tratterà sempre come figli secondari e si faceva chiamare zio. Ponendosi con loro con distacco e freddezza. Vediamo di seguito la vita dei fratelli De Filippo. Titina De Filippo, grande attrice dal cuore fragile Titina, all'anagrafe annunziata, nacque a Napoli il 27 marzo 1898. Fu avviata sin da bambina alla carriera teatrale, sebbene abbia inizialmente interpretato sempre ruoli maschili nella compagnia del padre. Raggiunta l'età adolescenziale, Titina rimase ferma per diverso tempo, già che era troppo piccola per i ruoli da donna e troppo grande per quelli da bambina. La situazione si sbloccò quando riprese la carriera nella compagnia del fratellastro Vincenzo nel 1912, insieme ai fratelli Edoardo e Peppino. Nel 1921 entrò nella compagnia di Francesco Corbinci, anch'essa di stampo prettamente dialettale, nella quale passò dal repertorio della pociadda a quello della commedia musicale. Qui conobbe l'attore Pietro Carloni che avrebbe sposato l'anno seguente. Dal matrimonio nacque il figlio Augusto, 1923-1997. Di lì la carriera spiccò il volo, lavorando anche insieme ad altri grandi del teatro, soprattutto con Nino Taranto, e nel genere della rivista, malgrado il fisico non proprio avvenente. Nel 1931 fondò insieme ai due fratelli il teatro umoristico Ide Filippo che debuttò il 25 dicembre di quell'anno con la commedia natale in casa Cupiello. Il trio si sciolse 14 anni dopo per i continui contrasti tra Edoardo e Peppino, ma lei continuò a lavorare con il primo, fondando la compagnia di Edoardo. Di quel periodo si ricorderanno spettacoli come Napoli Milionaria, Filumena Marturano, una commedia scritta appositamente per lei che contribuì in maniera esponenziale ad accrescere la sua fama, e questi fantasmi. Tutti del grande Edoardo, dal 1948 iniziò ad accusare problemi di cuore, accusati la prima volta proprio sul palco, e decise di ritirarsi gradualmente dalle scene per dedicarsi soprattutto alla pittura e al cinema, meno faticoso del teatro. Dove figura soprattutto come caratterista, sceneggiatrice e dialoghista. Lavorerà anche insieme al grande Totò. La sua ultima apparizione cinematografica fu nel film Ferdinando I re di Napoli, del 1959 in cui recita insieme ai fratelli Edoardo e Peppino per la prima volta sul grande schermo e l'ultima volta dopo la separazione del 1945. I problemi cardiaci però non gli diedero scampo. Morì il 26 dicembre 1963, a soli 65 anni. Dopo la sua morte, il grande amico e regista Vittorio De Sica le dedicò il film Matrimonio all'italiana, trasposizione della celebre commedia Filumena Marturano. Edoardo De Filippo, il senatore del teatro italiano. Dei tre, forse Edoardo De Filippo è quello che ha bisogno di meno presentazioni. Nato a Napoli il 26 maggio 1900, è stato un drammaturgo, attore, regista, sceneggiatore e poeta. Considerato uno dei più importanti autori teatrali italiani del Novecento, è stato autore di numerose opere teatrali da lui stesso messe in scena e interpretate e, in seguito, tradotte e rappresentate da altri anche all'estero. Autore prolifico, lavorò anche nel cinema con gli stessi ruoli ricoperti nell'attività teatrale e riuscendo ottimamente nella trasposizione. Per i suoi meriti artistici e i contributi alla cultura, nel 1981, fu nominato senatore a vita dall'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, anche come premio per il suo lungo impegno politico. Egli furono conferite due lauree honoris causa in lettere dall'Università di Birmingham nel 1977 e dall'Università degli Studi di Roma alla Sapienza nel 1980. Fu anche proposto per il premio Nobel per la letteratura. Insieme a Luigi Pirandello, Dario Fo e Carlo Goldoni, è oggi uno degli autori teatrali italiani più apprezzati e rappresentati all'estero. La sua opera più rappresentativa è probabilmente Natale in casa Cupiello, trasposta ancora oggi. Fu anche il primo lavoro che i tre fratelli portarono insieme sul palco. Altre opere rappresentative furono Napoli Milionaria, Questi Fantasmi, Filumena Marturano, Sabato, Domenica e Lunedì. I dissapori col fratello Peppino erano evidenti e mai nascosti. Testimoni parlano addirittura di tensioni davanti al corpo della sorella defunta. Tra il 1960 e il 1963 dovette affrontare più lutti. La morte della figlia Luisella, avvenuta il 5 gennaio 1960. Quella della moglie, da cui si era peraltro separato l'anno prima, il 9 giugno 1961. La morte, 1963, di Titina, la quale cercò sempre di mediare tra lui e Peppino. Il 4 marzo 1974 ebbe un malore sul palco e gli fu applicato un pacemaker. Ma ciò non lo portò lontano dal teatro. Poco più di 20 giorni dopo era già su un palco a recitare. Morì dieci anni dopo, la sera del 31 ottobre 1984, a causa di un blocco renale. Recitò quasi fino alla fine dei suoi giorni. Peppino de Filippo, il più duttile dei tre. Peppino, all'anagrafe Giuseppe de Filippo, nacque a Napoli il 24 agosto 1903. Fu però affidato a una balia, consiglia, che lo crebbe a Caivano, comune a nord di Napoli, fino all'età di 5 anni. Dedicò ben 7 pagine, da 373 a 380, del suo libro, Una famiglia difficile, ai ricordi d'infanzia in quel di Caivano. Il caldo tepore naturale del corpo della cara e buona balia consiglia. Suo marito Giorgio dopo una giornata di lavoro tornava allegro e sorridente, se lo metteva a cavalcioni sulle spalle e lo portava fino a casa, dove, tra un boccone e l'altro, si informava dell'andamento della giornata. La sorellina Maria, una piccola donna che badava a lui, gli raccontava qualche storiella per tenerlo buono quando la balia era fuori casa, lo teneva per mano quando doveva affrontare il difficile passaggio di un ponticello. La casa e la famiglia di Caivano resteranno il luogo più bello, la sorgente gioiosa degli affetti. Quella casa è stata mia e io l'ho amata, desiderata e tenuta costantemente nei miei ricordi. Peppino De Filippo arrivò a chiamare la sua villa di Roma Caivanella. Quando di tanto in tanto la madre Luisa lo faceva portare a casa, si sentiva fuori posto, non in armonia con il padre e gli altri fratelli, tanto da voler ritornare subito a casa. Malgrado fosse una umile dimora di contadini rispetto all'abitazione più agiata nella quale vivevano i fratelli. Rispetto a Edoardo e Titina, Peppino fu più duttile, visto che, oltre al teatro, lavorò molto anche in televisione e nelle commedie al cinema. Infatti, per la televisione inventò il personaggio di Pappagone, inventando un linguaggio dialettale con termini rimasti nell'uso comune. Al cinema, leggendaria divenne l'accoppiata con Totò, in tante commedie, dove spiccano Totò, Peppino e i fuorilegge, la banda degli onesti, Totò, Peppino e la mala femmina. Abbiamo già detto dei continui litigi con il fratello Edoardo. Secondo Peppino, innescati anche dalla gelosia di quest'ultimo, per la sua maggiore empatia con il pubblico e la succitata duttilità che lo portò a varie forme di recitazione. E dunque al successo con il grande pubblico. Inoltre, in una intervista disse addirittura che Edoardo aveva fatto carriera come autore grazie alle aderenze politiche e che gli avrebbe fatto negare la messa in scena in alcuni teatri romani. Morì a Roma all'età di 76 anni il 27 gennaio 1980 nella clinica Sanatrix a causa di un tumore. E tu? Conoscevi la storia dei fratelli De Filippo? Chi ritieni sia stato il più grande? Lascia un commento, un like e iscriviti al canale. Grazie.